Salvatore, ma qua vedo che tutti provano prima di comprare. Maria come stai? Fatti vedere in faccia. E' nino. Maria ma come stai stai? Ma come stai a fare un figlio? Com'è stufato che tutti provano prima di comprare? Anche le donne si provano prima e poi si sposano. Ah, ai tempi miei non si faceva così. Infatti mi trovai sposato senza sapere come, senza prova. Maria che te c'era? Ma solo questa. No, stai a leggare. Guardate che a noi mi vanno in America. Ehi, ma che ci vanno questi filmini, stai? Ehm, io vedi che ti stai a rivelare, ma tu vanno in America. Ma ci vanno in America? Tu ti ricordi che abbiamo America tu? Eh, eh. Tu ricordi? Tu ricordi che abbiamo America? Ma come mai? Noi ce lì ne chiamo America. No, che sta in America? Non c'è stanno. No, c'è stanno. No, non c'è stanno. No, non c'è stanno che lo faccio sciapito. Quella di cosa, i portoghesi, i portoghesi. Quella mezza cocomera. Questi sono di Gaeta. No, mettalo lì, quello che mi mangio. A Gaeta c'è stai a Galeta. Eh, cosa c'è? Eh, c'è stai un po' fatto qua. A due? A due. E a tre? E due o quattro. Ma te? Quattro. Guardi, ma come se non è ne fa tutto che l'ha stavano pagato? Eh, sono i miei genitori e io come me ne faccio bene. Ma porto pure i niente. Adesso, oggi ha mangiato a 30 ancora. Se ne ho dato un saluto ai vostri paesani, ce ne stanno parecchi là in America. Che sono in America, eh? Sare di... Ma tutti... E qual è di Treglia? Come si chiamano gli abitanti di Treglia? Tregliaiuli. Tregliaiuli? Tregliaiuli. 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 Oh, grazie. Chi si fa 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 fa? De che parte? Eh. Ma questo è diventato internazionale in America. Ah, ah. Non ho capito niente. Prego, ma... Ora si vanno a cattare i discetti a Napoli. Prego. Questo si porta sempre niente. Cioè, la chi ti mette a comprare la signora? No, ma ne voglio metà. Viene quella che vuole, ah. S'ha dato tre, una tessa. Perché tua moglie ti ha lasciato? Perché... È perché se ne aveva fuggito col postino. Col postino? Ah, tu... Porta una lettera... Porta una lettera, ti amo tanto, e quella si crede che ci aveva dato il postino. Sì, no. Grazie. Grazie, Maria. Ciao. No. Lascia. Mia moglie se l'ha chiamata il signore. Ah, è morto. Vergine. Ma giusto... Ma giusto una curiosità. Dico, posso vivere qui l'ora? Sì. Eh. Converto. Mi è comprato, 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 mi è comprato la sera. Oh, lei, lei... Lei è sorella del Duccio? Sì, sono stata l'anno passato. Che fine ha fatto? Sono stata l'anno passato, mi è comprato. Deve sta il Duccio? Città del Capo. Come? Città del Capo. Ah, non è tornata più qua? Sì. Sì, però mi sarà una metà di... Già stene per oggi. Ma mo... Mo che te ne vai, no? Eh. Ma c'è qualche donna che ti aspetta? Oh, parecchio. Mi faccio un parrucchino, sapato. Ma che mangiano tutto? Come mai? Come? Come mai guardami qua? Tutti guardami tu se ne fanno con le prove. Fa provare, fa provare. Signora, buongiorno. Stanno queste qua, ci stanno altre qualità. Stanno queste qua. Perché non vieni a lavorare con me? Eh, eh, eh. No, 50 euro, no, 50 dollari alle settimane. Eh, non c'è male. Però tu mi devi dare la tua moglie. Eh, mia moglie, eh. Io ti posso dare la moglie degli altri. Perché io moglie non ce n'ho. Moglie degli altri ce n'ho parecchie. Se la vuoi. Oh, vuoi? Io pensai che ero ricchiuto. Eh, beh, anche ricchiuto. Ero ricco. Ero ricchiuto. Adesso non lo sono più. Signora, ce ne faccio 3-4 kg. No, è che me ne devo fare. Innevora. Due euro. Però vedi che ce ne stanno assai che sono... 4 euro 5 euro e non sa che stia a far parlare con lei ti puoi comprare qualche cosa oggi? oggi sono a pranzo, non hai sentito? ora ti do 2 euro di pesce una cassettina così ce l'hai una settimana eeeh sai cosa ha detto il dottore? ha detto così ma questa porcherina chi te la dà? ma tu ce l'ha detto il dottore che mi hai dato 2 euro? buongiorno buongiorno c'è da te l'ho comprato come vai con quell'altra donna? oggi è dedicato alle nonne oggi è dedicato a tua moglie no? vedi un po' vedi un po' sciupato solo un po' perché mi dedico a un po' 45 euro si perchè qua non si fanno io me lo devo andare e quindi non è non è così bella guarda che buongiorno quando hai dato? 2 euro grazie 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 bel Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.